Buonasera, buonasera. Vorrei cortesemente 20 fritture di pesce, grazie, grazie. 20 fritture di pesce? Che di fare? La festa in casa? No, niente, io da solo voglio mangiare 20 fritture di pesce. C'ho, c'ho a me. Devi, niente, devi dire che per uso personale perché sento odore di assembramento. E non mangio da ieri. Voglio 20 fritture. Qual è il problema? Sarei tenuto a segnalare, ma facciamo una cosa. Facciamo, niente, facciamo 4 scontrini da 5 fritture. Va bene, eh? Oh, se, niente, se è necessario facciamo così, facciamo 4 scontrini. Però, niente, ecco, se la ferma qualcuno, non dica che le ha prese qua, va bene, sotto il marciatino. Sì. Sì.